Amici del Tgim, ci troviamo al Tennis Club Cagliari e siamo in compagnia di Gianfranco Palmieri, direttore dei campionati regionali di tennis. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Grazie per essere con noi. Come sono andati per lei questi campionati? Sono andati molto bene perché noi riteniamo che i campionati sardi assoluti debbano essere la festa del tennis in Sardegna. Sono venuti tutti i più forti giocatori dell'isola a giocare. Quest'anno ci sono stati anche due giocatori di notevole esperienza e forza, anche internazionali, come Capalbol, l'italo-argentino, e anche Claudia Giovine, che è una giocatrice di livello internazionale. E quindi come vede i nostri atleti a livello nazionale? I nostri atleti a livello nazionale sono assolutamente competitivi. Abbiamo giocatori ormai affermati, collaudati, però stiamo aspettando anche i giocatori più giovani, quelli che oggi hanno 18-19 anni, che ci piacerebbe che potessero superare gli attuali big nel più breve tempo possibile. E secondo il suo parere cosa servirebbe per essere più competitivi a livello italiano? Beh, giocare, giocare molto, allenarsi bene e andare a competere molto in tutti i campi, sia della penisola ma anche all'estero. Cose che stanno già facendo. Bene, io mi auguro che tutto questo sia vero e la ringrazio per essere stato con noi. La saluto. Grazie a voi e buon tennis a tutti. Grazie. Io sono Claudia e questo è il TGIM.